Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano al... Compagni e amici state fermi! Calma! Compagni e amici state fermi! Dai, dai, state fermi! State calmi! State calmi! State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia corpore attorno alla piazza! Sono Italo, compio quest'anno 63 anni, la cota direbbero 63 inverni e sono capitato qui al termine della prima fase della mia vita. Con Marinella eravamo molto impegnati nelle battaglie politiche dell'inizio degli anni 70. Erano anni però di stragi nelle piazze, c'era stata la strage di Piazza Loggia, eravamo tutti fortemente coinvolti. Si sperava di cambiare il mondo, ma non si era tenuto conto del fatto che i mezzi andavano adeguati ai fini. Constatata alla fine, all'inizio degli anni 80, di questa fase dell'impegno nostro personale, ma di una generazione, abbiamo deciso che forse era il caso di andare in un posto che ci permettesse di fare una riflessione profonda sulle scelte della nostra vita. Avevamo nel frattempo avuto una figlia e il nostro sogno era venire esattamente a Saviore, che per noi era il posto più bello della Val Camonica.